E' stata caratterizzata da diverse pause e da alcuni problemi organizzativi per l'ascolto dei testimoni della difesa, la seconda parte dell'udienza del processo Plinius che si è tenuta ieri a Paola. Oltre al capitano Falce dovevano essere sentiti due agenti della finanza, Zucchi e Fico, i testi di parte civile citati dall'avvocato Sommella per conto della regione Calabria e cinque testimoni della difesa di Basile. Il primo nodo da sciogliere è stato quello relativo all'esame del maresciallo della finanza Emanuele Fico che ha operato l'esatta individuazione dei beni posseduti dagli indagati e ha verificato la proporzionalità di questi rispetto ai redditi. Il pubblico ministero aveva chiesto di acquisire le schede contabili per evitare una lunghissima fase di esame, chiarendo preliminarmente che il materiale contabile era per così dire contaminato da alcuni riferimenti all'indagine in relazione ai ruoli pubblici svolti da alcuni imputati o dai ruoli che altri imputati avrebbero ricoperto nell'ambito del complessivo disegno criminoso per il quale si sta procedendo. Le parti hanno concordato nel rinviare l'esame del maresciallo Fico che sarà preceduto da un lavoro di rielaborazione delle schede con i soli contenuti contabili sui quali procedere poi ad esame e controesame. Altro nodo centrale ha riguardato la citazione come testimone della difesa di Basile di Antonio Iuliano, commercialista della famiglia dell'ex sindaco. La difesa di Basile ha chiesto di sentirlo prima come testimone e dopo l'esame del maresciallo Fico nella sua qualità di consulente. Un termine che ha dato vita ad un dibattito procedurale tra il pubblico ministero e gli avvocati difensori di Basile. Per Luberto Iuliano non si può esaminare come teste prima e come consulente poi e soprattutto non potrebbe entrare nel processo l'elaborato da lui redatto relativo alla situazione patrimoniale di Basile. L'avvocato Adamo ha rettificato il senso del termine consulente spiegando che Iuliano dovrebbe essere sentito come professionista che conosce la storia economica di Basile. Il presidente del collegio giudicante dopo la terza ma più breve pausa ha deciso che si procederà nella prossima udienza prima con l'esame del maresciallo Fico e successivamente con la citazione di Iuliano. Gli altri testimoni citati dalla difesa di Basile, vale a dire Gianfranco Pellegrino, Francesco Di Giorno, Fabio Ferrara e Tiziana De Bonis, componenti della maggioranza, non risultavano presenti. Così come risultava assente il testimone citato dall'avvocato Sommella. Se ne riparerà il prossimo 24 novembre quando saranno sentiti proprio in maresciallo Fico i quattro testimoni della difesa Basile e il test citato dalla regione Calabria costituitasi parte civile. Fissata intanto anche la data per l'appello del procedimento celebrato con il rito abbreviato per il prossimo 13 gennaio 2015.